Salve a tutti, in questo video vediamo come far cambiare la lingua al nostro dispositivo Alexa. Ci serve l'applicazione installata sul nostro dispositivo iOS o Android, quindi andiamo qua giù alla voce Altro e poi alla voce Impostazioni. A questo punto dobbiamo premere su Impostazioni dispositivo e poi fare tap sul dispositivo di Alexa al quale dobbiamo applicare un'altra lingua. Quindi, qua. Allora prima assicuratevi che il vostro dispositivo sia online perché io ero entrato dentro ed era offline e non c'era l'opzione. Quindi una volta che è online facciamo tap e scorriamo tutto in basso alla voce Lingua. Eccola qua, quindi ci basta fare tap sulla voce Lingua e adesso basta scegliere la lingua che vogliamo applicare e poi fare applica. Tutto qua. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.